Allora bentrovati, come vi dico ogni volta ed è la verità, noi con questa lezione concluderemo un excursus sulla ritrattistica che riguarda il nostro poeta Dante e tra l'altro avrete visto quante manifestazioni siano state fatte quest'anno purtroppo da remoto oppure lì messe in attesa però questo anno celebrativo e io spero che serva per riportare l'interesse su un artista, poeta, uomo di una tale grandezza per cui noi tutti italiani dovremmo sentire, sentirci gratificati e veramente onorati sapendo che è un italiano. Perché io dico che è universale, mondiale? Perché parla col cuore, con la mente parla di sentimenti, di poesia, di filosofia, parla delle scienze ma soprattutto è anche un uomo che sa tenere fede ai suoi principi e che soffre moltissimo nell'esilio, in miseria, salendo le scale altrui però sempre con la schiena dritta. Dante a seconda del periodo è più o meno celebrato, conosciuto. abbiamo visto tanto nel 300, nel 400 salvo Cosimo il Vecchio, poi il 500 è proprio il secolo nel quale trova la massima rappresentazione perché è nelle stanze vaticane, quindi uno dei luoghi dove si fa cultura, arte, per mano lo sappiamo di Raffaello. Poi invece nel 600 Dante subisce anche una certa ad amnazio perché nei suoi testi risulta forte la sua opposizione al potere temporale dei papi. Lui è filo imperiale, è il ghibellin fuggiasco, guelfo ma di parte bianca, quindi è uno che riconosce in età mediovale quando si faceva confusione sui poteri che a ognuno spetta il suo campo, è la teoria delle due spade, dei due soli, è anche colui che dice e in un momento in cui viviamo un po' criticamente l'Unione Europea, la Comunità Europea e l'Unione dei Paesi d'Europa, lui dice che l'Italia avrebbe potuto e dovuto essere il giardino dell'impero, un po' quello che vorremmo che forse sta anche accadendo. Nel 700 non piace molto, è diversa la cultura, intanto diciamo subito che tra 600 e 700 la scienza ha forse la parte fondamentale delle ricerche e delle azioni dei grandi di questi secoli, però succede ve ne parlai la volta scorsa che in Inghilterra un grande poeta John Milton abbia scritto un poema Il Paradiso Perduto che riporta l'attenzione su il mondo dell'aldilà e su quello che è capitato con la caduta col peccato originale. Questo interesse per un poema pubblicato alla fine del 600 fa sì che in Inghilterra nasca di nuovo l'interesse per Dante e noi abbiamo visto William Blake tra 7 e 800 che ama anche rappresentarlo in modo allucinato, surreale ma certamente in sintonia con il pensiero e i sentimenti. Poi in Inghilterra arriva quello studioso italiano di Dante che dopo essere è stato nell'isola di Malta dove certamente c'era un retaggio della cultura esoterica dei cavalieri di San Giovanni io questo lo penso, porta e questo è Gabriele Rossetti, porta in Inghilterra l'amore e il desiderio di studiare in modo approfondito Dante Alighieri e la sua opera. Il figlio Dante Gabriele Rossetti che con altri fonda la confraternita dei pre-Raffaelliti sarà un poeta e pittore che appunterà la sua attenzione, la sua ricerca, il suo amore per questo grande italiano che lui rappresenta anche se non direttamente sotto forme nascoste perché capisce che Dante aveva detto tutto e di Dante Gabriele Rossetti io ricordo in modo particolare quel beata Beatrix, quel dipinto ritratto della moglie morta dove confonde insieme Beatrice di Dante Beatrice forma simbolica e Beatrice Elizabeth la sposa suicida e quindi l'opera dei pre-Raffaelliti è molto molto importante per il recupero della fama di Dante Alighieri. Poi eravamo arrivati a parlare di un incisore un artista, un incisore francese che è Gustave Doré. Non riuscì a proiettarla e io comincerei oggi da quelle immagini precedute però da un'altra opera. Io vado a proiettare dunque allora qua devo chiudere che sennò vedo tutte le icone allora io comincio oggi con questo dipinto straordinario La barca di Dante. La barca di Dante è un'opera di Eugène Delacroix si trova a Louvre e risale al 1822 quando anche in Francia ma in Italia anche in Italia naturalmente si sta recuperando proprio il culto di Dante Alighieri questo dipinto, un dipinto ad olio che si trova a Louvre rappresenta la scena in cui Dante e Virgilio sono si trovano sulla barca guidata dal traghettatore Phlegias che forse è un demone che li sta portando a dite perché devono attraversare la palude stigia. La città di dite è una città infocata che si trova vedete sullo sfondo la rappresentazione, questa rappresentazione è permeata dalla drammaticità e dalla sensibilità romantica siamo in pieno romanticismo quindi il pittore accentua attraverso le espressioni ma anche attraverso il colore i colori che impiega. Questo dipinto ricorda un altro grande dipinto francese che è la Zattera della Medusa che è un'opera di Géricault, amico di Delacroix. Agli inizi dell'Ottocento la pittura francese è di tipo storicistico, è di tipo narrativo, ama la rappresentazione del dramma e nel fare questo cerca come modelli i nostri pittori, in particolare Michelangelo, Michelangelo Buonarroti. Tutti i corpi sono rappresentati con una loro fisicità e con una forza che è pari al forte sentire e qui si trovano in mezzo agli acidiosi e tra gli acidiosi Dante trova Filippo Argenti degli Adimari e non è un caso della famiglia di Mari che era nemica degli allighieri e così li mette all'inferno. E ora riprendiamo dove avevamo lasciato la volta scorsa il ritratto di Dante di Gustave Doré. Questa immagine, questa è un'incisione che si trova nel frontespizio del volume l'illustrazione delle illustrazioni della Divina Commedia. Gustave Doré che voleva, avrebbe voluto essere un pittore e uno scultore era invece soprattutto un eccellente incisore. Siamo nel 1861, l'arte dell'incisione in Francia è avanzatissima, raffinata, sofisticata tanto che c'è un pittore americano, Edward Hopper che quando nel 1909 compie il primo viaggio in Europa, in Francia non guarda i contemporanei cubisti ma guarda le incisioni dell'Ottocento francese. Gustave Doré comincia a farsi un nome facendo incisioni sulle opere delle opere di Byron, Rabelais, Paradiso perduto di Milton, Don Quixote e la Bibbia. Ma nel 61 ebbe, lui raggiunse la fama con la rappresentazione delle varie scene delle tre cantiche. Doré ci ha lasciato 135 illustrazioni della Divina Commedia e più questo ritratto e la sua opera è completa mentre ricorderete che il Botticelli non l'aveva portata a termine che era la prima opera per rappresentare i vari episodi della Divina Commedia. e questa è, tra queste opere io ho fatto una selezione molto sintetica vi faccio vedere Paolo e Francesca che sono del quinto canto dell'Inferno è una rappresentazione potente questa, queste sfumature questa capacità di dar colore attraverso attraverso una tonalità unica è dovuta alla capacità dell'incisore alla sua sensibilità alla sua cultura visiva ha conosciuto molte opere questa scena Paolo e Francesca come vedrete sarà la più più rappresentata in tutto l'Ottocento anche dai nostri pittori italiani perché è un dramma è una tragedia amorosa e quindi c'è una partecipazione c'è molto sentimento qui addirittura Gustave Doré unisce i due corpi come fossero uno solo in una forma di cuore se vedete e mette in evidenza la crudeltà dell'uccisione questo è il sangue che esce dalla ferita da parte di Gian Giotto quindi questa è una rappresentazione dell'inferno di Gustave Doré molto famosa questa l'avevamo già vista siamo nel purgatorio anzi canto secondo siamo nell'antipurgatorio è la barca che arriva dalla foce del Tevere e porta le anime che dovranno restare nel purgatorio per purificarsi è l'incontro con Casella che scende da questa barca Casella era il musico preferito da Dante Alighieri e in questa occasione intona amor che nella mente mi ragiona sono i versi di Dante Alighieri che il musico aveva trasformato da poesia in musica e questo dovremmo tenerlo presente quando si trascurano si trascura la sensibilità artistica di Dante al di là della poesia Dante amava moltissimo la musica e i suoi versi erano adatti ad essere musicati bisognerebbe proprio fare uno studio particolare per riuscire è un canto monodico noi non siamo abituati al canto monodico che ricorda un po' il canto gregoriano però c'è tanta bellezza tanta armonia e quindi perché lo dico perché ho letto in uno dei tanti articoli che che Dante non non praticava la musica invece non è assolutamente vero addirittura scriveva per i musicisti questo siamo nella cantica del paradiso e Dante incontra il suo antenato cacciaguida degli Elisei e siamo nel canto quindicesimo sedicesimo e diciassettesimo e cacciaguida anche cacciaguida profetizza a Dante l'esilio è una scena di una forza espressiva e rappresentativa eccezionale tutto merito di Gustave Doré che ci porta fuori dalla materia ecco ci fa salire in paradiso con queste anime che sono solo luce e sempre dal paradiso tratta questa immagine Gustave Doré che nel canto che illustra l'Empireo come viene descritto nell'ultimo canto del paradiso nel trentesimo come vedete a poco a poco le anime si avvicinano a Dio che è solo luce e Gustave Doré è diciamo eccezionale in questa resa ripeto attraverso le varie sfumature di un solo colore che è dal nero al grigio al bianco quindi in Francia noi abbiamo già visto che in ambito romantico della Croix con quella barca drammatica che porta i due poeti nella città ferrigna la città del fuoco la città di dite abbiamo visto anche che mentre quell'immagine era agli inizi dell'ottocento questa invece siamo alla metà poco oltre la metà e ancora il mito di Dante e il culto di Dante continua ma ora veniamo all'Italia in Italia nell'ottocento c'è il ritorno per Dante sì fortissimo perché Dante diventa un modello un patriota che può veramente essere la guida la fonte di ispirazione per i nostri patrioti carbonari poeti e subito dai primi anni dell'ottocento per esempio questo è un dipinto del 1810 è intitolato Francesca da Rimini nell'inferno dantesco e opera di Nicola Monti Nicola Monti è un pittore che nasce è un pittore che nasce nel 1736 quindi lavora fino ai primi anni dell'ottocento lavora a Roma col batoni e poi a mio avviso si ispira molto a Fusli alla pittura gotica alla pittura romantica e questo come vedete in questa immagine Dante al solito svenuto caddi come corpo morto cade ma queste due anime così leggere vicine sono di una poesia di una grazia che sembra un balletto come quelli che venivano fatti allora con con il tutù lungo è un'immagine di molta grazia la grazia del periodo romantico tra il neoclassicismo e il romanticismo e questo è uno degli altri soggetti che maggiormente vengono rappresentati è il conte ugolino e la famiglia quindi i pittori italiani si ispirano come anche francesi abbiamo visto e si ispirano all'episodio di Francesca di Paolo e Francesca e poi all'episodio del conte ugolino perché sono episodi dove c'è un dramma forte dove ci sono sentimenti dove c'è la morte e quindi che bene si adattano alla mentalità romantica questo è del 1820 e l'autore si chiama Giuseppe Diotti che è di Casal Maggiore quindi nord Italia Emilia mi pare sì il conte Ugolino e la famiglia vengono rappresentati con una struttura piramidale che ricorda la pietà di Michelangelo quindi noi abbiamo visto pittori francesi che si ispirano a Michelangelo pittori italiani che si ispirano a Michelangelo quello che dobbiamo dire è che Roma è la città che attira continua ad attirare artisti pittori e anche poeti se pensiamo a Leopardi perché è il centro della cultura anche se ci sembra impoverita immiserita diventata provinciale ma le i tesori che possiede sono tali che tutti gli artisti devono come sappiamo già da un secolo fare il viaggio a Roma che non è solo un viaggio molti ci restano anche questo pittore lavora si forma a Parma poi va a Roma ma alla fine andrà a Milano a Milano lavora con Andrea Appiani il grande pittore neoclassico il grande pittore di Napoleone noi lo conosciamo per il palazzo reale tutto quello che ha fatto questo dipinto è opera di è della metà dell'ottocento la data esatta non l'ho trovata è un'opera del pittore Attilio Runcaldier o Runcaldier ed è la trasposizione in pittura del basso rilievo che si trova sulla tomba di Dante opera di Pietro Lombardo della fine del quattrocento questa immagine è stata riprodotta sulla copertina dell'inferno pubblicata dal Corriere della Sera credo anche che ci abbiano fatto un francobollo è interessante notare l'autore intanto guardate sono i colori della bandiera italiana c'è il bianco rosso e verde sappiamo che sono i colori anche dei templari sappiamo che sono i colori dell'impero bizantino ma qui siamo alla metà dell'ottocento quindi l'Italia vive il momento del risorgimento delle aspirazioni patriottiche dei sogni degli italiani che come altri popoli in particolare i tedeschi dopo la tempesta e la ventata napoleonica si sono accorti che avevano una patria perché solo Napoleone che riesce a far capire cosa fosse uno stato una nazione e una patria e di questo ne riparleremo quando ci incontreremo il 5 di maggio tra l'altro Runcaldier è un patriota Ravennate e vive dal 1801 al 1884 pieno 800 e la cosa interessante Ravennate ho detto è che Ravenna è la prima città ed è anche comprensibile c'è la tomba di Dante ma è la prima città in Italia che nell'Ottocento riscopre e diciamo suscita il culto di Dante ed è Ravenna che come ora come in questo periodo si svolgono le prime e le più importanti cerimonie celebrative perché averlo lì è per Ravenna i Ravennati una cosa preziosa da custodire ma anche deve essere uno stimolo a pensieri alti ad azioni forti quindi noi troveremo in tutto l'Ottocento che Ravenna è sempre la prima città in Italia a studiare a parlare a creare incontri anche di altissimo livello culturale e perché è evidente lì c'è anche la tomba questa questo dipinto come potete vedere si ispira completamente al basso rilievo che si trova sulla tomba di Dante questa è opera di un grande scultore ticinese di Carona nel Ticino è Pietro Lombardo che farà diciamo la sua compierà il percorso e avrà molta fama quando si recherà a Venezia molte delle tombe e dei doji e delle grandi famiglie furono realizzate da questo scultore e l'anno della realizzazione del ritratto di Dante con un leggero basso rilievo molto delicato è il 1483 questo basso rilievo si trova sul sarcofago di Dante all'interno della cappella dove si trova appunto la tomba che negli anni nei primi anni del novecento venne restaurata dai milanesi Ambrogio Annoni architetto e Ludovico Pogliaghi scultore Ludovico Pogliaghi lo conosciamo per una delle grandi porte del Duomo di Milano e questo dimostra come a quel punto dopo un secolo di manifestazioni il culto di Dante fosse ben radicato due parole sulla tomba di Dante allora sulle vicende delle sue ossa Dante venne dopo la morte che arrivò nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 venne deposto in un sarcofago romano che si trovava appoggiato alle mura del convento dei francescani di Ravenna la chiesa di San Francesco però i fiorentini passato qualche secolo veramente riavrebbero voluto indietro almeno il corpo del loro grande poeta e in questa richiesta si era fatto avanti anche Michelangelo che avrebbe fatto gratuitamente il monumento e per Michelangelo fare qualcosa gratuitamente significava proprio essere molto molto interessato appassionato all'opera sotto il papa Leone X de Medici Firenze ottenne era il papa l'autorizzazione a riprendersi le ossa di Dante però quando andarono a Ravenna trovarono il sarcofago vuoto non era una cappella era all'esterno e perché i francescani dalla parte interna del muro avevano fatto un foro e avevano portato via i resti di Dante e li avevano nascosti fino rimasero nascoste le ossa di Dante nel convento di San Francesco fino al 1781 quando un cardinale legato Gonzaga fece costruire quella cappellina in stile neoclassico che conosciamo come la tomba di Dante nel 1810 il nostro Napoleone soppresse tutte le istituzioni religiose e cacciò da San Francesco questi fraticelli i quali prima di lasciare il convento e Ravenna forse nascossero le ossa di Dante murandole in una parete all'interno del loro chiostro dove per caso furono ritrovate nel 1865 1865 io non credo che possa essere stato un caso perché il 1865 era il sesto centenario della nascita di Dante probabilmente qualche notizia già si conosceva e allora queste ossa furono riportate dentro il sarcofago all'interno della cappella e diventò questo un luogo sacro un luogo di memorie che fu portato proprio in alto soprattutto da Gabriele D'Annunzio intanto nel 1865 i nobili mantovani avevano chiesto a Ravenna di poter realizzare un panteo che potesse custodire le sue ossa perché dicevano i mantovani a Mantova c'era il maggior numero di opere di Dante e poi Virgilio era mantovano ecco forse anche questo e abbiamo detto che il dipinto di Rune Caldie era del 1851 circa metà dell'800 ma c'è un grandissimo pittore che a modo suo la prende un po' alla lontana se vogliamo e vuole citare Dante è Francesco Hayez Francesco Hayez è il grandissimo pittore romantico che vive a Milano campa tantissimo quasi 90 anni e detta sempre legge in campo pittorico estetico realizza a modo suo come abbiamo detto e nel 1848 questa meditazione sulla storia d'Italia che avrebbe dovuto essere la citazione che è la citazione dei versi di Dante quelli che pronuncia a sordello ai serva Italia di dolore ostello nave senza nocchiero eccetera in gran tempesta infatti il dipinto che in una collezione privata è intitolato meditazione sulla storia d'Italia infatti il libro che tiene sulle ginocchia porta una scritta storia d'Italia e il crocifisso porta una data 1848 siamo all'inizio o forse non è ancora scoppiata la prima guerra di indipendenza e Milano come sapete è un centro di patriottismo di rivendicazioni di spirito anche bellicoso c'erano state le cinque giornate poi si uniscono ai piemontesi quindi a Milano questa questo sentimento patriottico è forte ed è forte il riferimento a Dante Alighieri che ormai per tutto l'Ottocento viene considerato proprio colui che per primo parla dell'Italia dentro i suoi confini naturali non solo i confini naturali ma l'unità della lingua che proprio lui Dante ha dato alla sua patria un altro dipinto dello stesso periodo 1851 lo vediamo nella vetrata poi ingrandiamo nella vetrata dantesca si chiama così di Giuseppe Bertini è del 1851 metà esatta dell'Ottocento Dante è considerato il massimo la massima espressione della poesia e dell'arte del genio italiano Giuseppe Bertini che è figlio di un maestro vetraio che lavora per il Duomo di Milano realizza molte vetrate questa si trova all'ambrosiana però ne fece una identica per l'amico che era Gian Giacomo Paul di Pezzoli infatti se andate al museo troverete nello studiolo dantesco la copia di questo almeno un esemplare totalmente identico in questa vetrata lo stesso Giuseppe Bertini come il padre farà anche delle vetrate per il Duomo di Milano è rappresentato Dante Mattelda Beatrice poi San Francesco San Domenico no sono qua San Francesco San Domenico qui due scene della la selva la selva oscura e Caronte poi i due mediatori San Domenico San Francesco e in alto la Vergine è la glorificazione del pittore perdon del poeta e nello stesso tempo c'è la storia salutis io ora vi faccio vedere il dettaglio che come vedete è carico di sentimento è una riflessione 1851 era andata male la prima guerra d'indipendenza quindi è proprio come una riflessione trista sulla condizione sulle condizioni d'Italia questo questa vetrata che ora si trova all'Ambrosiana era stata mandata nel 1851 appena fatta all'esposizione internazionale di Londra ci fu mandata nel 51 come si fu mandata nel 65 per il sesto centenario della nascita di Dante poi fu acquistata nel 1867 dalla biblioteca Ambrosiana dove si trova qui è rappresentato Dante Beatrice e Matelda Beatrice sappiamo tutto questa figura che può essere figura allegorica di chi si avvicina alla fede e Matelda Matelda è un personaggio un po' misterioso che compare negli ultimi cinque canti del purgatorio il nome di Matelda viene detto solo alla fine del del quinto canto Matelda è la bellezza assoluta e rappresenta la felicità del genere umano prima del peccato originale qualche studioso pensa che forse Dante abbia voluto rappresentare sotto Matelda Matilde di Canossa o qualche altra Matilde che lui conosceva io come non lo penso di Beatrice non lo penso neppure di Matelda certo Dante che apprezza molto la bellezza e la grazia femminile certamente per questi suoi personaggi avrà tratto ispirazione dalle donne che incontrava e che conosceva però dopo venivano trasformate in simbolo e diventavano una figura allegorica Matelda è colei che immerge Dante nel fiume Lete sarebbe Lete ma Dante lo accentua ci mette l'accento è il fiume dell'oblio che fa dimenticare le colpe commesse i peccati prima di salire in paradiso poi lo fa immergere nello e uno è che invece è il fiume che fa ricordare il bene fatto quindi qui c'è tanta speranza c'è c'è la felicità ecco può esserci veramente questa bellissima immagine di donna che rappresenta l'ultimo gradino prima di arrivare alla felicità promessa e due parole su Bertini ma è molto noto era un pittore ma era anche docente all'Accademia di Brera di cui fu anche direttore e anche lui abbiamo detto fece delle vetrate per il Duomo di Milano fu nello stesso tempo Bertini romantico ma anche verista ama il tratto reale e la rappresentazione delle caratteristiche somatiche del paesaggio però sempre permeato da un'aura così un po' di sogno un po' e quasi sempre malinconica perché come sappiamo nel romanticismo era un'attitudine comune questa sofferenza questo dolore anche perché nell'ottocento in effetti in Italia in Germania c'era una situazione c'era una situazione politica che portava a desiderare l'indipendenza l'autonomia e tutte queste aspirazioni che per molto molto tempo non si risolvono portavano a un atteggiamento così a una condizione che forse potremmo chiamare depressione si pensi alle ultime lettere di Jacopo Ortis per esempio e allora qui siamo nel 1851 Dante come vedete è ben rappresentato questo è un altro dipinto che mostra Dante così quasi in modo anedottico è Dante in esilio col figlio nella pineta di classe la pineta di classe sapete è la pineta di Ravenna Pietro il figlio è Pietro il primo genito il primo genito che è arrivato a 15 anni viene condannato anche lui all'esilio sapete che se Dante fosse tornato in patria lo avrebbero bruciato sul rogo i figli arrivati alla maggiore età ma era solo 15 anni Pietro e Jacopo devono lasciare Firenze e soprattutto Pietro accompagnò sempre il padre soprattutto a Verona e a Ravenna dopo la morte del padre Pietro tornò a Firenze e diventò anche fiscia amicizia col Petrarca però deluso dal comportamento dei fiorentini e un po' ancora irato per come il padre era stato trattato anche Pietro abbandonò Firenze e si stabilì a Verona Verona questo dipinto come vedete e come dicevo prima per la vetrata del Bertini mette in evidenza la tristezza l'abbandono il libro sempre viene Dante viene sempre rappresentato con questo codice perché erano codici e la scrittura era su pergamena e questo codice è sempre la la divina commedia Annibale Gatti è l'autore nasce in Romagna a Forlì però si trasferisce a Firenze prima ho citato Roma Roma con le sue grandissime opere d'arte e anche Firenze perché Firenze è un centro c'è un'accademia dove insegnano e dove si formano gli artisti più importanti dell'Ottocento e quindi dopo aver fatto esperienza a Venezia a Firenze o a Milano molti molti pittori andavano a Firenze che mantiene a lungo questo primato del resto sappiamo bene da quale passato venisse la città e questo è un altro dipinto episodico mostra un episodio di fantasia è Dante Dante che presenta Giotto a Guido Novello da Ravenna il dipinto è del 55 gli altri abbiamo visto 50-51 ma rimane questa questo modo di rappresentare per episodi proprio direi per aneddoti la vita di Dante allora questo dipinto è di Giovanni Mocchi si trova nella galleria non palatina nella galleria d'arte moderna di Pitti è un episodio di fantasia sì io penso di sì non c'è mai un incontro diretto documentato tra Dante e Giotto Giotto dipinge a Rimini si reca a Rimini tra il 1313 e il 1317 la sua presenza a Rimini la sua opera sarà tale da creare una scuola giottesca che per 50 anni produrrà opere di altissimo livello artistico qualitativo però non mi risulta poi gli anni non corrisponderebbero forse forse Dante e Giotto potevano essersi incontrati a Roma a Roma per il giubileo Giotto era là da un anno o due e lavorava in Vaticano Dante era andato già era andato ambasciatore anche dal Papa ci va dopo per la verità nel 1302 però da come descrive il flusso dei pellegrini sul ponte Sant'Angelo di Castel Sant'Angelo si capisce che lui nel 1300 doveva essere a Roma e se c'era Giotto possono essersi incontrati ma non ecco queste presentazioni questi sono episodi un pochino che nascono dalla fantasia o dal desiderio di mettere insieme queste grandi eccezionali personalità l'autore l'autore ho detto è Giovanni Mocchi questo è un fiorentino proprio nato a Firenze e fa parte del gruppo del caffè Michelangelo voi sapete che il caffè Michelangelo è la fuscina dei macchiaioli toscani lui frequenta i macchiaioli però non lo è non è un macchiaiolo è un pittore io direi storicista insieme a Gordigiani Ussi e Becchi che sono dei pittori dei ritrattisti abbastanza noti soprattutto Gordigiani che rappresenta regine principesse lui si reca a Parigi però a Firenze non gli danno tanta importanza e allora lui andrà in Cile a Santiago dove come ritrattista sarà molto apprezzato questo è ancora il nostro Dante molto malinconico questo dipinto è intitolato l'esilio di Dante si trova nei musei civici di Vicenza ed è opera di un vicentino Domenico Peterlin il quale come dimostra nella postura nell'atteggiamento si ispira a quel famoso ritratto di Goethe opera del Tishbein è quel dipinto dove ha in testa un grande cappello e un bellissimo manto che sembra sembra quasi di Kashmir la postura è la stessa anche se Ranverset dall'altra parte questo dipinto abbiamo detto Peterlin è vicentino però questo dipinto viene realizzato a Firenze perché questo pittore non solo per motivi diciamo di studio e di produzione artistica ma proprio per la committenza della casa reale di Savoia in un primo tempo va a Torino poi insieme ai reali andrà a Firenze questo dipinto è del 65 quindi da un anno Firenze era capitale del Regno d'Italia quello che ammiriamo in questa in questa pittura così delicata così raffinata è la citazione della pittura purista tedesca dei primi dell'ottocento che certamente questo pittore aveva ammirato a Roma dove abbiamo visto si era ispirato anche al ritratto di Goet quello che vedete il libro in mano l'attitudine così malinconica è proprio lo spirito del romanticismo questo è un è una carta dipinta fondo oro acquerello e fondo oro Paolo e Francesca ancora Paolo e Francesca uniti e qui proprio leggeri che volano il tratto dell'autore l'autore è Mosè Bianchi l'opera è del 1877 a me questa eleganza del tratto ricorda molto Egon Schiele e siamo ben avanti forse anche il fatto di non usare la pittura ad olio ma l'acquerello rende questa immagine elegantissima e leggera il soggetto è sempre la tragedia di Paolo e Francesca questo pittore Mosè Bianchi che viene sempre definito Mosè Bianchi da Munza perché c'era Mosè Bianchi da Lodi è un pittore che si forma alla scuola del Bertini quello delle vetrate ed è insieme a Faruffini Federico Faruffini Tranquillo Cremona Daniele Ranzoni cioè lui fa un percorso con gli scapigliati però lui non è non è un pittore della scapigliatura è più romantico naturalistico patriottico e di lui ricordiamo perché è possibile è un'opera che possiamo vedere sempre decorò il soffitto della saletta reale della stazione di Monza la stazione di Monza quella che vediamo ora è della fine dell'Ottocento ma era stata costruita nel 1840 quando Monza Milano e Napoli Portici furono le prime linee ferroviarie in Italia quello che mi piace così citare perché rientra tutto nella conoscenza di un'epoca e dei personaggi è questo io mi sono trovata a leggere delle degli orari ferroviari dell'epoca cioè 1840 poco dopo è molto interessante vedere quanto impiegasse il treno per fare 12 km e qualcosa impiegava 10 minuti ma la cosa divertente è che c'è scritto che da Monza Milano impiegava un minuto in meno perché la strada era in discesa voi sapete quale fosse la stazione d'arrivo di questa di questa ferrovia era quel bel palazzo neoclassico che è dietro lo smeraldo al termine di Melchiorre Gioia perché la ferrovia da Monza seguiva fino a un certo punto la Martesana per un certo percorso seguiva la Martesana ecco dico questo per gli amici di Milano per le amiche di Milano perché è facile andare a vedere le opere questo dipinto sul soffitto molte opere di di Mosè Bianchi si trovano quasi in deposito nella Pinacoteca Ambrosiana sono proprio tante tante e tra l'altro questo pittore era zio di Pompeo Mariani il quale è uno dei primi impressionisti italiani e nello stesso periodo in cui in Francia c'è Monet e gli altri ora arriviamo a una rappresentazione infernale questo allora Dante Virgilio sono sulla distesa gelata del Cocito che è giù in fondo proprio in fondo all'imbuto dell'inferno dove si trovano i grandi traditori il canto è il canto trentaquatteresimo dell'inferno e Virgilio e Dante si trovano di fronte questo mostro che ha tre teste che è forse citazione blasfema della Trinità l'autore è Alberto Zardo di Padova un pittore anche illustratore che realizzò questo però non è incisione questo è proprio olio su è olio su carta quindi non è incisione realizzò le illustrazioni per la Divina Commedia per cui vinse il premio Alinari parliamo degli anni 1901 1902 ci avviciniamo ci avviciniamo ormai siamo entrati nel novecento che però è proprio conseguenziale a quella a quella stato d'animo ottocentesco di ammirazione e di culto per Dante parliamo del 1908 Ravenna come vi ho detto inaugura le feste dantesche 1908 perché perché il grande collezionista ed editore Olsch Giunti e Olsch Editore in Firenze dona alla Biblioteca Classenze di Ravenna più di 4.000 volumi che comprendono edizioni rare della Commedia su Pergamena e soprattutto l'autografo di Dante sul del premio proemio all'opera allora in questa occasione quando questo ricco collezionista consegna questo patrimonio che è incommensurabile di testimonianze dantesche è presente il ministro della pubblica istruzione il quale è Benedetto Croce e non aggiungo altro quello era il ministro della pubblica istruzione ma che cosa cos'è questo sacco di iuta era presente anche Gabriele D'Annunzio che proprio di Dante fece un personaggio divino proprio porta no meglio fa portare da tre aviatori con i loro aerei tre sacchi di iuta contenenti foglie dall'oro che venivano dal vittoriale stavano facendo la sua preparando la sua dimora sul lago di Garda questi sacchi di iuta erano stati decorati da un buon pittore Adolfo De Carolis e c'è scritto inclusa est fiamma dentro c'è la fiamma la fiamma del patriottismo dell'eroismo e questi sacchi furono portati nella cappella di Dante dove si trova la 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 tomba il sarcofago di Dante e sempre tornando ai tempi cioè per arrivare ai tempi recenti vediamo come nel 1912 la Olivetti abbia utilizzato la figura di Dante per fare pubblicità la pubblicità nasce allora l'imprenditore Camillo Olivetti che era veramente il padre di Adriano che era veramente un uomo eccezionale aveva fondato la Olivetti Evrea nel 1908 aveva cominciato a produrre le macchine da scrivere e nel 1911 le aveva portate all'esposizione universale di Torino però le macchine da scrivere italiane non andavano non piacevano si compravano quelle tedesche e quelle americane allora ebbe la idea geniale di chiedere a un pittore che era Teodoro Volferrari di creare un manifesto che scuotesse l'attenzione degli italiani e che fosse anche un simbolo di grande forza morale di elevati doti artistiche e allora questo pittore creò l'immagine di Dante che indica la macchina da scrivere sullo sfondo ci sono le Alpi Ivrea sapete è insomma abbastanza tra le montagne ma non solo diceva anche sotto c'era una scritta dopo oltre questa se Dante avesse avuto una M1 che era il nome il modello di questa macchina da scrivere quindi un'idea geniale poi la Olivetti si servì moltissimo della pubblicità facendo realizzare i suoi manifesti pubblicitari da Dudovic Marcello Dudovic e da altri grandi disegnatori e artisti lo sappiamo però l'idea il più grande poeta italiano non poteva che scrivere con la macchina da scrivere moderna Olivetti e questo è io procedo per ordine cronologico ogni cosa viene dopo l'altra anche se non dico la data ma qui siamo nel 21 nel 21 è il sesto centenario della morte di Dante questo bellissimo manifesto è opera di Galileo Chini e Galileo Chini è uno dei forse massimo esponente della dell'arte Liberty in Italia nel dunque nel 1921 questo manifesto si trova nella biblioteca Classenze di Ravenna però diciamo il prototipo è nell'archivio Chini dell'Ido di Camaiore cioè vicino a casa mia a Via Reggio dove si era ritirato Galileo Chini e dove si possono trovare insomma le testimonianze e le sue opere questo pittore e disegnatore era molto influenzato dall'arte orientale dal decorativismo dai colori forti e fu anche colui che andò fu chiamato anzi dal re del Siam allora la Thailandia si chiamava Siam perché andasse a Bangkok a decorare la sua reggia questa questo dipinto che cita le grandi le rappresentazioni dei santi soprattutto nella pittura del quattrocento dimostra una capacità grafica una conoscenza delle sfumature degli accordi cromatici notevole perché è un grande pittore non tutti lo hanno trattato bene perché Liberty sapete una volta in Italia non piaceva ma merita veramente di essere ricordato tra i nostri grandi pittori del novecento quindi questa immagine come avete visto Dante ha sempre l'alloro glielo mettono gli artisti visto che non glielo avevano voluto dare in vita questo ho detto che il sacco di iuta era stato decorato da Adolfo De Carolis questa è un'incisione un'incisione che Adolfo De Carolis realizza nel 1921 però quella che vediamo qui poi vedremo la sua io ve la indico perché Gabriele D'Annunzio donò una copia della incisione alla città di Trento nel 35 un omaggio a Cesare Battisti quindi questa è la scrittura è lo scritto autografo di Gabriele D'Annunzio che si trova ora in una sala riservata del comune di Trento mentre per molti decenni l'avevano lasciata appesa così da qualche parte ma ora vediamo il ecco questo è il dettaglio rappresentazione così forte e a me ricorda Dürer Albert Dürer e come abbiamo visto nella in questa composizione ci sono tre archi sono le tre cantiche che vanno da quello nero lo spazio scuro dell'inferno a quello medio alla luce del paradiso e poi c'è una scritta dantes adriacus questa è una scritta dettata da Gabriele D'Annunzio cioè Dante dell'Adriatico perché lui aveva fatto la spedizione a fiume proprio navigando sul mare Adriatico e questo pittore che è soprattutto incisore anzi xilografo xilografie sono cioè la stampa fatta con il legno intagliato e non fu un esponente del Liberty come invece abbiamo visto Chini anzi criticò il Liberty perché era più legato all'estetica pre-Raffaellita e a quelle ermetismo rinascimentale che sappiamo come un fiume sotterraneo carsico rimane sempre sotto le manifestazioni artistiche pittoriche e anche letterarie e questo pittore e incisore lo dimostra come possiamo proprio vedere dal modo di rappresentare dallo sguardo così intenso in un volto scavato che rappresenta tutta la storia e tutta la sofferenza di Dante quindi noi l'abbiamo dimenticato Adolfo De Caroli però era pittore artista di grande cultura e sensibilità questo è un ritratto quasi moderno 1927 l'altro eravamo nel 21 quando Gabriele D'Annunzio imperversa a Ravenna ma facendo proprio dando degli stimoli positivi questo è il ritratto di Dante di un pittore romano Tito Ridolfi che è vissuto fino al 1856 1886 1956 guardando le foto del pittore si deve pensare che questo proprio non possa che essere il suo autoritratto e ha le caratteristiche somatiche che vengono attribuite al poeta il naso lungo lo sguardo così accigliato però ripeto è l'immagine del pittore stesso dimostra che in questi anni c'è ancora in Italia l'amore per Dante e questo è un altro dipinto moderno anni recenti l'autore è Gabriele Dell'Otto che è nato nel 73 quindi è proprio un'opera quasi contemporanea è un illustratore un fumettista uno dei più famosi illustratori su riviste americane e italiane rappresenta Dante e Farinata è un'opera del 2019 fa parte di tutte quelle opere grafiche pittoriche o letterarie che hanno preparato negli ultimi anni le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante e ora guardiamo le statue che vengono che sono state erette per Dante questa è la statua davanti a Santa Croce opera di un buono scultore che è Enrico pazzi di Ravenna guardate quante volte torna questa citazione della città romagnola questo quando negli anni 20 dell'Ottocento il Leopardi passò da Firenze rimproverò i fiorentini e disse ma come non avete fatto neppure non avete levato neppure una statua per il vostro grande poeta però passarono molti anni prima che una statua fosse realizzata questa statua abbiamo detto del pittore dello scultore Enrico pazzi prima era posta nel centro della piazza davanti alla basilica di Santa Croce dopo l'alluvione del 1966 e quando la statua fu spostata si capì che sarebbe stata meglio in un gioco in un confronto con la facciata della basilica che non in mezzo alla piazza solitaria e infatti si è un po' animata mettendola in questa posizione il poeta è rappresentato al solito accigliato vedete coronato dalla solita corona dall'oro e vicino l'aquila qualcuno dice allo scultore perché non l'aquila bicipite perché lui era filo imperiale no l'aquila romana era quella alla quale si riferiva Dante e poi ci sono i due leoni che sono il simbolo stesso della città di Firenze Enrico Pazzi è quello scultore del quale vi avevo fatto un accenno perché intanto si era preparato aveva fatto scuola con Giovanni Dupré che nell'ottocento viene considerato il massimo scultore italiano ma poi lavorava nella rotonda del Brunelleschi che era stata di proprietà di Pippo Spano parlando dei ritratti nella villa Carducci dove c'è il ritratto di Dante che verrà mandato a una mostra a Forlì e poi Petrarca Boccaccio c'erano anche dei personaggi degli altri personaggi c'era anche questo Pippo Spano che lasciò una somma esagerata lui era una specie di sovrano nei paesi balcanici perché il Brunelleschi realizzasse una chiesa pianta centrale perfetta poi invece i lavori non vennero fatti questo edificio andò un po' in rovina ma Enrico Pazzi lo acquistò e lì ci fece il suo studio salvando anche la struttura Brunelleschiana quindi è uno scultore che insomma ha radici e contatti con la grande arte del Quattrocento questa invece è la statua di Dante che si trova nella piazza dei signori a Verona siamo nel Sessantacinque come la statua di Firenze è l'anno del Sesto Centenario quindi in tutte le città italiane più o meno vengono erette statue importanti o meno per il poeta fiorentino nella piazza dei signori c'era il palazzo dei uno dei palazzi dei signori della scala nel quale Dante era stato ospitato e si diceva che da quel palazzo guardasse verso la piazza questo monumento eretto nel Sessantacinque avrà nascerà in mezzo a problemi perché in quell'anno in quegli anni Verona è ancora sotto gli austriaci sarà nel Sessantasei che si libererà tutta quella parte della Lombardia per cui scusate per cui i promotori i componenti del comitato ebbero un po' di problemi Dante qui non ha guardate non ha l'alloro però è rappresentato nel solito modo è cigliato con il libro in mano e secondo proprio l'iconografia dantesca è un apparire molto realistico dal basso quando lo guardiamo sembra che ci rimproveri e c'è questo che viene attribuito spesso a Dante lo scultore era fu Ugo Zannoni veronese che aveva lavorato a Venezia e poi però era finito a Milano a Brera un'altra bella statua è questa a Napoli nella piazza Dante che prima invece era la piazza che era dedicata al sovrano Carlo III di Borbone qui avrebbe dovuto esserci la statua appunto di Carlo III poi invece una volta arrivato Garibaldi siamo nei primi anni 60 e Luigi Settembrini il patriota Luigi Settembrini propone di innalzare una statua al nostro sommo poeta fu aiutato anche da altri intellettuali e venne fatto un progetto molto più ricco qui avrebbero dovuto esserci rappresentati episodi della Divina Commedia poi invece si risolse in un grande basamento molto semplice per dare importanza invece alla figura al volto all'espressione di Dante chi realizzò questo monumento furono due scultori napoletani uno Tito Angelini e l'altro Tommaso Solari i quali fecero quest'opera gratuitamente e questo è molto bello donarono alla città di Napoli il progetto e la realizzazione della statua eretta nella piazza che prima era dedicata al re Borbone e questa struttura venne sistemata e montata dai marinai della regia marina nel 71 se non mi sbaglio sì nel 71 quando ormai Napoli faceva parte del regno d'Italia poi stranamente a Roma non abbiamo monumenti a Dante c'è questa erma oltretutto gli hanno rotto il naso e che si trova a Villa Borghese o meglio sul Pincio dove si trovano altri 200 o 199 personaggi della storia mediovale legati all'Italia e a Roma ma non saprei nemmeno dire chi sia stato lo scultore siamo alla fine nella seconda metà dell'Ottocento verso la fine dell'Ottocento e per Roma sono stati fatti molti progetti sia di monumenti che di altre opere però finora non sono stati portati a termine molto bella e molto importante è quest'opera il monumento a Dante a Ligieri che si trova a Trento si trova è un'opera di Cesare Zocchi è un monumento che si trova naturalmente è fiorentino anche Zocchi e si trova nella piazza della stazione infatti appena si arriva si trova di fronte a questo enorme monumento incombente ma bellissimo e significativo che è alto quasi 18 metri questa questa struttura questo monumento fu portato a termine dal 1891 al 1896 questa non è una scultura in marmo ma è una statua in bronzo e in fusione su tutto un basamento invece di pietra dove si trovano tre livelli e sono rappresentati l'inferno il purgatorio e il paradiso ed ogni cantica è rappresentata da un personaggio minosse qui all'inferno sordello dove c'è il purgatorio e beatrice nel in paradiso questo monumento 1891 96 Trento era una delle città irridente irredenta non irridente scusate irredenta cioè era una città che come Trieste e altre faceva parte dell'impero austro-ungarico però questo monumento divenne simbolo di italianità e della lingua italiana all'interno dell'impero austro-ungarico che detto il permesso perché importava ai governanti austriaci mostrare che accettavano all'interno dell'impero tutti i popoli e le culture che avevano qualche cosa da rappresentare era un contributo che le varie culture davano all'impero abbiamo visto che a Verona nel 65 non fu così facile perché stava arrivando la terza guerra d'indipendenza invece qui non furono sollevate storie cominciarono anche perché era appena qualche anno prima era stata eretta una statua a Bolzano nella piazza principale di Bolzano dedicata al poeta mediovale Walter von der Vogelweide che era proprio il simbolo della cultura germanica e allora gli italiani di Trento chiedono di poter mettere il loro grande poeta si formarono dei comitati per la raccolta dei fondi fu fatto un concorso e a questo concorso parteciparono Ettore Ximenez e Giuseppe Grandi cioè i massimi scultori più famosi scultori del tempo si dice che avesse vinto Zocchi perché chiedeva meno costava meno abbiamo visto che la statua è posta al sommo ed ha sotto un braccio sotto il braccio sinistro tiene il libro la Divina Commedia e l'abbraccio destro è volto indica le Alpi le Alpi il confine naturale dell'Italia che Dante aveva sempre indicato non furono messe subito delle epigrafi fu posta nel 93 un epigrafe con l'iscrizione ma fu cambiata subito dopo la prima guerra mondiale quando Trento diventò Italia entrò a far parte del regno d'Italia Cesare Zocchi ho detto era fiorentino studiò a Firenze e però insegnò anche a Perugia e fu amico dei macchiaioli ora vi faccio vedere cosa abbiamo a Milano a Milano non abbiamo monumenti a Dante in piazza Dante c'abbiamo il Parini via Dante perdono c'abbiamo il Parini questa è una delle tante teste che decorano le le fiancate ma anche la parte alta vicino alle guglie del Duomo di Milano è Dante Alighieri riconoscibile per il suo certo dall'oro per le caratteristiche somatiche ma non c'è il nome di un autore o di un'epoca esatta nel quale venne fatto io penso che risalga agli anni 30 del novecento quando come sapete intorno al Duomo fu messa anche fu messo anche il ritratto di Mussolini e qui abbiamo un monumento a Dante a New York questa è una manifestazione recente che i diciamo gli americani di origine italiana hanno voluto celebrare portando una corona alla statua di Dante anche questo è un bronzo l'autore è Ettore Ximenez un artista siciliano di Palermo che però lavorò sempre a Roma c'è sappiamo c'è anche il quartiere che lo ricorda e questa statua si trova addirittura davanti all'Inkoll Center che è uno dei luoghi deputati della cultura americana nell'Inkoll Center si fanno i concerti c'è l'opera ci sono tante manifestazioni mostre quindi è interessante gratificante pensare che a New York il nostro poeta è messo proprio in un luogo di grande importanza e questo che purtroppo non si riesce a vedere perché contro luce e non ho trovato altre foto è la statua di Dante di uno scultore maltese che si chiama Vincent Apap morto nel 2003 direi quasi centenario questa statua si trova a Floriana che è vicina alla valletta alla valletta realizzata la statua nel 1965 si trova la statua sopra tre massi che simboleggiano simboleggiano le tre cantiche e lo scultore ha realizzato alla base ma qui non si vede una serie di gigli fiorentini e croci di Malta simbolo di fratellanza tra Malta e l'Italia e noi lo sappiamo a Malta c'era stato Gabriele Rossetti quindi il legame noi lo troviamo veramente stretto con questo io ho terminato ah no ecco il mio omaggio a Dante è questo abbiamo visto tanti ritratti di Dante per me il più bello e certamente quello che si avvicina di più al poeta è questo che si trova nella cappella del Bargello e a mio avviso è proprio di mano di Giotto dove Giotto scambia ricambia l'omaggio che Dante aveva fatto a Giotto per bocca di Oderisi da Gubbio e quindi realizza il suo ritratto nella cappella della Maddalena del Bargello io credo di di poterlo confermare mentre come vediamo gli altri volti sono un po' di maniera ma questo è molto intenso e c'è anche come ho detto altre volte affetto rispetto quindi io con questo ho terminato se il mio vorrei chiudere ma il mio mouse è impazzito là ecco ho finito e io spero di avervi dato qualche stimolo qualche notizia in più su quello che riguarda l'iconografia dantesca perché ogni ritratto rappresenta non solo il personaggio ma si porta dietro tutta l'epoca la cultura e la sensibilità del momento bene io ho terminato bene buong no 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 no